E' un vero benefattore. E' un vero benefattore, direbbe Roosevelt. E' mia responsabilità indirizzare le tue azioni verso un bene più grande. Come sospettava l'agente Kelso, dei campioni di un antivirale ad ampio spettro sono stati inviati a DC grazie a un provvedimento governativo. Sarò chiaro. Stiamo parlando di un antidoto contro tutte le infezioni virali. Polio, influenza, febbre da dengue, raffreddore, veleno verde. Non è un vaccino, ma una cura. Io so esattamente dove si trova questa cura, ma per accedervi mi servirà la valigetta che avevo a bordo dell'Air Force One. Crediamo che i True Sons tengano la valigetta al Campidoglio. Recuperatela. Non mi interessa come. Fatelo e basta. Se vogliamo rimettere in piedi questa nazione, dobbiamo essere pronti a compiere azioni forse impopolari. Ma io non sono qui per ottenere voti. Sono qui per i risultati. E mi aspetto lo stesso da voi. Sarà fatto. Grazie. Grazie. Grazie.